bentornati sul plutonia publication podcast programmazione estiva che poi è quella che preferisco perché vado a fare l'archeologia personale ma condivisa con le stesse passioni di molti di voi delle stati che furono quindi in questo senso ma l'estate piace solo in questo senso e oggi tenendo più o meno fede a una certa linea che volevo dare al podcast quest'estate vi parlerò di un altro film horror che avevo visto d'estate italiano mediamente conosciuto o forse dovrei dire conosciuto dagli esperti di settore di una certa età ma sconosciuto pressoché alle nuove generazioni anche perché io non lo vedo proposto più da nessuna parte da tempo però se volete rivederlo e qui ve lo dico inizio puntata così magari intercettate questo suggerimento e lo seguite io l'ho rivisto su youtube dove è caricato in maniera diciamo così un po un po pirata e ve consiglio di seguire plutonio telegram perché è totalmente gratuito e tra le tante discussioni che facciamo tutti i giorni sto mettendo anche dei link appunto di film più o meno introvabili in streaming legale e anche in dvd quindi recuperi su youtube di film che poi appunto vado a discutere qui non tutti ma qualcuno sì e quello di oggi è appunto il film che ho rivisto e su cui spendo volentieri quattro parole perché l'ho rivalutato quel tempo all'inizio non mi piaceva e adesso vi spiego anche perché si tratta comunque della chiesa di michele soavi anno riproduzione 1989 da tutti considerato un po tutti gli esperti un po il canto del cigno del cinema horror italiano di quell'epoca d'oro perché poi negli anni 90 si assiste a un rapidissimo decadimento di quell'horror un po hobby movie un po trash ma non necessariamente brutto che per tutti gli anni 70 e 80 è stato apprezzatissimo all'estero anche in italia ma anche dagli americani dai tedeschi dagli spagnoli insomma era veramente il cinema horror italiano era amatissimo ovunque tant'è che anche oggi esistono gruppi facebook che celebrano i film appunto dei anni 70 80 la chiesa è un po la pietra tombale su quel periodo lì la pietra tombale che si adatta anche un po la trama di questo genere la trama in breve siamo nel medioevo il film si apre così un gruppo di cavalieri teutonici scopre un villaggio in cui vivono le streghe lo mette a ferro e fuoco uccide tutti gli abitanti e seppelisce i morti in una grande fossa comune che poi sigilla edificandoci sopra una chiesa per tappare il male letteralmente per tappare il mare far sì che esso non riviva lo butta nel sottosuolo e ci costruisce un edificio sacro poi l'attenzione la storia si sposta i giorni nostri dove vediamo una giovane restauratrice lisa che sta lavorando a un dipinto in una cattedrale gotica la chiesa appunto che abbiamo visto venire edificata nel medioevo dopo quella strage feroce compiuta dai cavalieri teutonici è chiaro subito il legame tra passato e presente e va da sé che senza fare troppi spoiler perché appunto vi invito magari a vederlo quel passato quel male rivivrà dal momento in cui qualcuno inadvertitamente aprirà i sigilli che dalla delle fondamente della chiesa portano a quella che fu appunto la fossa comune delle streghe e dei loro complici questo film ai tempi non lo apprezzai perché doveva uscire come terzo capitolo della saga demoni di Lamberto Bava saga che io ai tempi avevo amato tantissimo era una sorta di zombie all'italiana con queste creature demoniache molto veloci molto crudeli sicuramente più pericolosi degli zombie di Romero invece invece Bava in quell'anno aveva già preso accordi con l'allora Fininvest per dirigere la mini serie tv fantaghiro e quindi fu rimpiazzato dal suo aiuto regista un giovane michele soavi all'epoca aveva 31 32 anni che era già noto nell'ambiente come assistente di Dario Argento in opera fenomena e tenebre e che aveva anche ha già collaborato con Joe D'Amato e una fiducia quella data dai produttori e da Bava a soavi ben riposta visto che poi soavi ha avuto una buona carriera da regista e che qui era ancora un erba però anche la chiesa è venuto bene è venuto un buon film adesso vi dirò perché ma non era demoni 3 era una trama totalmente differente e in questo ha deluso i fan che si aspettavano appunto un terzo capitolo del capitolo della saga di questa apocalisse dei demoni invece qui andiamo proprio da altre parti l'idea di base però è buona un luogo che racchiude il male e lo sigilla appunto in questo luogo octonio in questa fossa comune per impedire che esso si diffonda e lo sviluppo è interessante è un film ancora legato a quel periodo dell'horror ma già se ne discosta un pochino è molto secondo me è molto positivo questo film rivisto ora perché è molto d'atmosfera è ambientato in una suggestiva cattedrale ungherese si ispira o quantomeno ha degli afflati che richiamano a inquadrature di dipinti medievali e post medievali che fanno davvero paura come quelle del mio pittore preferito che è ironimus bosch e poi anche cerca di costruire una storia seria che non verte sul trash che crea atmosfera che ha un qualche afflato oserei dire alla carpenter ok quindi si prende molto sul serio e lo fa anche piuttosto bene per parte del film tuttavia vabbè ha i limiti che avevano un po' i film horror italiani di quel tempo allora il budget non era enorme non c'è nonostante ci sono appunto delle rese sceniche che funzionano l'inizio medievaleggiante è un po' grezzo però è efficace è crudele crudele il giusto i cavalieri che si vedono sono spietati le streghe non aspettatevi grandi effetti scenici però ci viene fatto capire che sono si streghe ma che forse la condanna e l'esecuzione cui vengono sottoposte da parte dei cavalieri teutonici è veramente eccessiva e brutale e poi che difetti ha questo questa produzione i difetti appunto che avevano un po' i film italiani dell'epoca ci sono delle recitazioni non sempre all'altezza delle scene un po' sopra le righe un doppiaggio stridente e una sceneggiatura che si perde un po' in tutta la seconda parte e che gira un po' a vuoto però ecco c'è questa piacevole atmosfera tra l'horror fantasy l'horror puro il thriller esoterico insomma ripeto qualcosa alla carpenter che rispetto ai film che vediamo oggi e ai tentativi di fare i film horror italiani di oggi tranne veramente poche eccezioni sembra una roba eccezionale cioè vista ora la chiesa al netto appunto della recitazione un po' così è un filmone un filmone che che cazzo funziona ancora e poteva essere anche migliore ripeto perché è arrivato nell'89 che era oltre l'anno in cui cadeva di fatto tutto il mondo oltre cortina cadeva anche purtroppo il cinema horror nostrano e questo è un peccato perché abbiamo davanti a una pellicola ambiziosa che secondo me è godibile anche con delle ottime suggestioni sonore quasi ipnotiche e con la mano di Michele Soavi che poi si sarebbe vista in altri film non necessariamente horror insomma un film che io ho riapprezzato anzi ho apprezzato dopo tempo perché gli anni che furono proprio per quei motivi lì che ce l'hanno venduto come Demoni 3 e Demoni 3 non era ero rimasto deluso e invece eccolo qui l'unica cosa che a vederlo ti viene la tristezza perché se tu come io lo so come tanti lo sanno percepisci che lì veramente finisce un mondo un mondo dell'artigianato del cinema del fantastico horror italiano e ci lanciamo da lì verso un'epoca di sole commedie che non sono neanche più quelle commedie rustiche molto efficaci molto se vogliamo anche carnali senza senza filtri degli anni ottanta ma anche lì diventeranno delle commedie sempre più in formato televisivo diciamo così in formato mediaset e quindi sostanzialmente innocue fino a passare ai cinepanettoni e tutta una serie di cose che ha seppellito definitivamente il genere fantastico in italia io vi consiglio comunque di recuperarlo e di vederlo so che esiste anche una versione dvd pubblicata dalla cg entertainment se non sbaglio dovreste trovarlo abbastanza facilmente oppure appunto guardatelo vi faccio questo invito alla pirateria guardatelo gratuitamente su youtube e sul mio canale telegram e poi potremmo fare delle riflessioni se volete posso provare a farci una puntata sul perché quella stagione del cinema horror italiano è finito è stato sepolto non esiste più e secondo me comincio a dire che non esisterà mai più nonostante il resto dell'europa produca delle opere veramente buone spesso migliori di quelle americane parlo di spagna parlo di francia che non è mai retrocessa in questo in questo senso ma parlo anche dei paesi scandinavi parlo addirittura della polonia che ha fatto vedere alcune cose interessanti su su netflix da noi pochissimo pochissimo roba abbiamo perso il nostro taglio la nostra impronta che era appunto quella un po forfantesca trash un po copiona ma con dei guizzi di originalità che ora ci tocca solo riguardare in vecchie vhs in dvd o in queste coppie di film che troviamo su youtube e rimpiangere quello che eravamo un tempo e questa diciamo scarsità di ispirazione si vede anche nelle serie tv italiane e anche un po nella letteratura che rimane confinata la letteratura del fantastico italiano a un piccolo gruppo di appassionati almeno quella adulta parlo di quella letteratura adulta e tant'è ce ne faremo una ragione ma qui continueremo quantomeno a parlarvi e a sperare che un giorno qualcosa cambi io vi saluto vi do appuntamento alla prossima puntata sia in singolo che in doppio dell'host boy show vi invito a iscrivervi al mio canale youtube se mi ascoltate su youtube oppure a lasciare una recensione su spotify perché ci è molto preziosa per far crescere il podcast se poi volete sostenere attivamente ciò che facciamo c'è una pagina cofì oppure potete lasciare una mancia perché questo è su youtube grazie al pulsante super grazie grazie a tutti quelli che contempleranno anche soltanto l'idea di farlo ma che magari non lo possono fare al momento alla prossima e buona visione